Da regista di Gnegni, dall'aiuto regista di Quella vecchia ciabatta, dal magazziniere di Mia mamma è andata in vacanza e il continuo Mia mamma in vacanza ha preso la diarrea, un film che ha fatto la storia, e che la storia ha fatto il film, The Matrix. Benvenuto. Oh, dove sono? Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice, che ruzzola nella tana del cazzoniglio? Eh? Sì. Oh no, fidati, lo leggo nei tuoi occhi, tu sei un uomo che non accetta la verità, tu non credi nel destino, vero? No, non ci credo. Bene, bene, ti hanno mai fatto le carte? No. Eh, se vuoi diecimila lire e te le faccio io qua, subito. Ma... Ma torniamo a quello che stavamo facendo prima. Ah, gli euro, ci sono gli euro. Sì, no. Puttana. Ma sei venuto da una discoteca, ma come sei gonciato? Sì, ma quello che faccio non la mia vita privata, non ti interessa. Ok. Spiegami, perché sono qui. Invece, ti interessa sapere che cosa si tratta quello di cui tu hai un'idea ma non riesci a capire. Cosa? Non lo so. Però... Matrix è ovunque. è intorno a noi. Oh mio Dio. Davvero, eh? E tu lo avverdi quando vai al lavoro e quando vai in chiesa, che non ci vai mai, e morirai all'inferno, figlio di puttana. Però questo è il mondo che ti hanno messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. E tu ora mi chiederai quale verità? Quale verità? Bene. Che sei uno schiavo. Come sono uno schiavo? Sì, sì. A dire il vero, tra i due, va bene, continuiamo. Eh? Razzista. Sei in una prigione che non ha mura. E questa prigione è Matrix. Dovrai scoprire però con i tuoi occhi che cos'è. E questa è la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Tu posta blu? Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua a farti le pugnette e crederai a quello che vorrai. Tu posta rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profondo il culo del bianconiglio. Allora. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Io sarei tentato la supposta blu. Perché almeno ce l'ho sempre duro. Scopo come un riccio. Eh vaffanculo Matrix, sinceramente. E invece ti prendi quella rossa perché la blu è finita. No, aspetta. Tu quale ti sei presa? Tutte e due. Tutte e due. Tu sei l'unico nero con il pisello piccolo, cavolo. Ma che ne sai? Non è che è tua sorella, devi dirti tutto. Va bene, prendo la rossa. Vabbè, vai, girati. Tu vuoi che te la metta? Io fai la sola. No, me la metto da sola. Va bene, va bene. Ah! Oh mio Dio! Mmm, Morfeu, sei stato molto bello. Ah, grazie, grazie, puttana. Ma chi ha creato qui? Cosa stai dicendo? Guarda, e tu sei qua per allenarti, mica per far ballare alla scimmia. Ah, dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere. Sei pronto? Sì. Guarda che non sarà facile per te imparare quello che ti devo insegnare. Perché? Cosa c'è di così complicato? Non lo so, però... Allora, vieni! Aia, madonna, impesta, mori. Evita. Prendi qua. Ma cosa credi di fare, eh? Dovrai impegnarti più di... Ah, dai. Oh, rimane, rimane, non ferisci, disgraziato. Ah! Piccolo... Ah, dove cazzo è? Spatata! Ah! Ah! Forza, tirati su. Ah! Tirati, tirati! Ora, so che ti senti demoralizzato, ma è normale, va così per tutti. Però adesso dobbiamo provare un'altra prova. Quale? Eh, si tratta del salto. Ma non ce la farà mai la prima volta! Sì, tatu puttana! Non ce la farà mai! Eh... E poi c'è di merda. Vedi? Il mondo si sgretola, cade tutto a pezzi. Dobbiamo fare presto, devi imparare a vincere Matrix. Sei pronto, Neo? Eh, che dobbiamo fare? Eh, devi saltare qua, nel vuoto, e arrivare fino a quell'altro edificio là. Ah, è umanamente impossibile. Come posso farci? Ciocco! Devi liberarti di queste stupidaggini e iniziare a credere che tu ce la puoi fare, perché sei l'eletto delle palle. Guarda, osserva, ora io, che sono pro, ci riuscirò. Guarda, eh! Stai guardando? Sì, ma non è che c'è la game mode? Vito! Ok, vai! Beh, stavo precipitando, però. Oddio! Ma come posso fare? Ok, dai! Ci provo! Mi devo concentrare... Perché arrivano le frecce? Ci sono gli indiani! Va bene, concentriamoci! Vaffanculo gli indiani! Vai! Ah! Andiamo, forza! Che stiamo facendo qui? Non lo so, tu! Finiamo, avanziamo! Trinity, spiegaci! Eh, dobbiamo recuperare un chip! Bravo! Eh! Studiata! Lurida! Mmm, aspetta un momento! Ehi! Eh! Muoricato! Va bene, continuiamo su! Come continuiamo su? Eh! Ma a che serve questo dispositivo? Oh mio Dio, un déjà vu! Eh! Eh, che tra l'altro anche prima! No, prima non era un déjà vu! Ah, giusto! Perché era... Per la prima volta a vu! Ma devi sparare al gatto! Io non sapevo che tu fossi così violento! Sono un animalista, io! Eh! Per ti! Guarda, è molto pericoloso, eh! Potremmo morire da un momento all'altro! Mmm! Ah! Scusa, eh! Ma secondo te dove cazzo... Eh! È mezz'ora che saliamo! Andiamo! Andiamo! Andiamo, forza! Andiamo! Oh mio Dio! Non so! Non ci pensa! Non ci pensa! Oh mio Dio! Guarda! Guarda! Sono di là! Legate! Legate! Ehm! Perché c'è su tutto questo? È un errore di Matrix! È un errore di... Attento! C'è qualcosa che sta per succedere! Ci sono gli agenti! Oh mio Dio! Oh! Gli agenti! Ammazziamoli! Anche un puttanaio di cani! Ammazziamoli! Ammazziamoli! Ammazziamoli tu! Disgraziato! Sono sfigato! Vai! Chi si è? Chi sono loro? Oddio! Mori! 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 È morto! È morto! Ammazziamolo! Guata! 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 Uuuu! Mio Dio! Eh! Vabbè! Diciamo che è morto! Vai a fare il culo! Ce l'hai fatta! Nio! Bra! Ha superato! Smettetela di spararvi tra di voi! Coglioni! Hai superato il primo test! Blah 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 Non era un test! Ah! Ho capito! Sono io l'eletto! in tutto! Grazie a tutti